Buon pomeriggio, benvenuta carangela, benvenuta a tutta la delegazione tedesca che oggi qui con noi. È stata un'ottima occasione per condividere alcune valutazioni, per scambiarci alcune opinioni. Ho innanzitutto ringraziato Angela per aver preso l'iniziativa la settimana scorsa di un momento importante di confronto con i paesi europei del G7 e il presidente Obama ad Hannover. Abbiamo avuto modo di condividere e discutere di molte cose partendo da alcune curiosità. Il prossimo anno noi potremo lavorare insieme non solo nella tradizionale amicizia tra Germania e Italia ma anche nella organizzazione del G7 e del G20 che si terranno nell'estate del 2017, primavera-estate 2017. Quindi potremo lavorando insieme dare un supporto alle grandi questioni di politica internazionale. Avremo poi un importante appuntamento bilaterale. Lo scorso anno non si è tenuto il vertice bilaterale tra Germania e Italia perché era l'anno di molti appuntamenti, in particolar modo del G7. Quest'anno lo terremo in particolar modo su alcune questioni di lavoro comune che abbiamo e di conseguenza abbiamo scelto di farlo in Emilia Romagna, vicino a Bologna, in una città che si chiama Maranello, quindi nel luogo che per molti aspetti è simbolo dell'importanza di scommettere sull'automotive e sull'innovazione, storia e futuro, storia e futuro, storia e futuro. E che è anche un segno della necessità di andare veloce, di andare di corsa. Abbiamo poi discusso del sessantesimo anniversario dell'Unione Europea che sarà il 25 marzo del 2017. In Campidoglio furono firmati i trattati istitutivi delle comunità europee e condividiamo con Angela l'idea di organizzare un grande appuntamento coinvolgendo e anzi facendoci coinvolgere dalla presidenza di turno che sarà del primo ministro di Malta, il nostro amico Joseph Muscat, che peraltro domani sarà di nuovo in Italia. Quindi discussione su tutte le questioni che conoscete. Naturalmente l'agenda ha messo al primo posto il tema della immigrazione. Credo che sia un dovere di tutti che la scommessa europea sull'immigrazione funzioni. Quindi noi siamo impegnati perché l'accordo con la Turchia, che ha segnato alcuni punti importanti in queste prime settimane, possa essere ulteriormente incoraggiato e implementato. C'è una forte convergenza tra Germania e Italia sulla necessità di avere un approccio all'immigrazione che sia un approccio carico di valori umani, di dignità e contemporaneamente in grado di offrire una proposta politica come Unione Europea che sia una proposta seria, credibile e di lungo periodo. Allo stesso modo abbiamo evidenziato, abbiamo discusso, tra l'altro entrando molto nel merito, l'altra grande sfida sull'immigrazione che è la sfida africana. I numeri in questo momento dell'arrivo in Italia di migranti dalla Libia non sono numeri molto diversi dallo scorso anno. A ieri erano circa 26.000, controllatemi il numero, voglio dare il numero preciso perché sono circa mille in più dei 25.000 dello scorso anno. Ora, se voi considerate che nel 2015 noi abbiamo avuto meno visitatori, migranti, profughi del 2014, capite che non c'è una emergenza. La Germania ha dovuto sopportare un'emergenza di un milione, di più di un milione di persone nel 2015. Noi invece stiamo parlando al massimo, considerando i numeri dello scorso anno, 2015 155.000 e del 2014 170.000. Però questo non vuol dire che non si debba lavorare insieme per avere la stessa filosofia che ha ispirato l'accordo con la Turchia. Questo è il punto, credo, di maggiore condivisione oggi. Il punto di maggiore condivisione è che occorre una strategia per l'Africa come c'è stata per la rotta balcanica. Noi abbiamo presentato un documento all'attenzione dei nostri partner europei, ne abbiamo discusso con il team di Angela Merkel nel dettaglio nei giorni scorsi. Vogliamo migliorarlo insieme, siamo pronti. Ci sono dei punti su cui non siamo d'accordo, non è una novità, in particolar modo il punto relativo alle forme di finanziamento. Noi proponiamo gli euro bond, ma non vi è una condivisione da parte tedesca su questo strumento. Da parte nostra la disponibilità è a discutere nel merito di qualsiasi soluzione l'importante è che si possa fare un investimento sull'Africa. Perché se vogliamo risolvere il problema per i prossimi anni bisogna investire in cooperazione internazionale, in aiuti allo sviluppo, in occasioni di lavoro e credo che su questo noi abbiamo una condivisione invece totale. Su questo punto la condivisione con la cancelliera Merkel, con Angela è totale e credo che sia un fatto positivo della quale la ringrazio. Quindi noi siamo impegnati come italiani ad avere una strategia di lungo periodo e siamo convinti che debba essere l'Europa a prendere la leadership di questa operazione. Accanto a questo abbiamo da parte nostra esplicitato in modo chiaro il nostro netto dissenso e anche per alcuni aspetti lo stupore per alcune prese di posizione dei nostri amici austriaci rispetto al Brennero sono posizioni sbagliate e anacronistiche. Sono posizioni per di più non giustificate da nessuna emergenza. A mio giudizio sarebbero sbagliate anche in caso di emergenza ma oggi l'emergenza non c'è. Soprattutto perché chi conosce quelle regioni sa perfettamente che il Brennero è molto più di un confine, è un simbolo. Peraltro vi si parla tedesco, Angela conosce quanto noi, forse persino meglio di noi perché spesso ci fa le vacanze il Sud Tirolo e l'Alto Adige. Dunque stiamo parlando di una zona meravigliosa, bellissima, di una zona che soffre l'idea di un blocco perché è una zona che si sente profondamente europea e credo che lo sia e che quindi da parte nostra ci debba essere una rispettosa presa di posizione nei confronti dei nostri amici austriaci, ma dicendo con forza quella posizione è sbagliata, quella posizione è contro la logica, quella posizione è contro la storia. Infine è evidente che noi stiamo attraversando un momento di grandi tensioni a livello internazionale, rallenta l'economia americana, qualche segnale di preoccupazione ancora dai paesi come la Cina, dai paesi, dai BRICS. C'è un clima di grandi cambiamenti a livello geopolitico dal Sud America fino al Sud Est asiatico, l'Europa ha un compito importante. Nel corso di una cena fatta ad Expo lo scorso anno con Angela, suo marito e mia moglie, Angela utilizzò un'espressione molto bella citando il rischio della sindrome dei Maya per la nostra cultura, per i nostri ideali, per la nostra civiltà. Io credo che sia molto giusto recuperare quella immagine, l'abbiamo discusso anche a pranzo, per dire che vogliamo invece avere un grande futuro per l'Europa. Noi crediamo all'Europa, ho invitato Angela a Ventotene, nella isola di Altiero Spinelli, quando avrà tempo, magari quando potrà visitare. Quella invece è vicino a Ischia, è più vicino al Sud ed è bellissimo. È un luogo che noi abbiamo pagato per darlo ai cittadini europei, agli studenti europei, ai ricercatori europei, che andranno nei luoghi degli Stati Uniti d'Europa, così si esprimeva Spinelli, per recuperare l'ideale europeo. Ecco, io credo fortissimamente nell'ideale europeo, anche quando non la pensiamo allo stesso modo su tutto, ma proprio il fatto che non la pensiamo allo stesso modo su tutto ci aiuta ad essere compartecipi di questa grande avventura. Allora, ringrazio Angela per la sua presenza qua, le do di nuovo il benvenuto a Roma e le cedo volentieri la parola. Grazie, signor Presidente del Consiglio, caro Matteo, per questa opportunità odierna di incontrarci, dopo aver esserci incontrato una settimana fa da Nover, assieme al Presidente americano, assieme al Premier britannico e al Presidente francese. E noi due abbiamo parlato, discusso delle sfide internazionali e oggi abbiamo parlato ai nostri rapporti bilaterali, che sono molto stretti e siamo felici di avere le consultazioni di governo ad agosto. nel luogo del futuro e del passato, che è collegato anche al potenziale economico dell'Europa, all'industria automobilistica. Avremo una conferenza anche in autunno sulla digitalizzazione sulla piattaforma Industria 4.1, perché vogliamo gestire assieme le sfide e sono felice che l'Italia, in occasione del santissimo anniversario dei trattati di Roma, darà uno sguardo all'Europa. Abbiamo avuto la presidenza nel 2007, quando abbiamo festeggiato il cinquantenario e abbiamo posto la base per i trattati di Lisbona dieci anni dopo. Possiamo guardare indietro, vedere cosa abbiamo fatto e cosa dobbiamo fare. Io sono d'accordo con Matteo che l'Europa si trova in una fase molto fragile, ma che l'Europa è il nostro futuro, che dobbiamo imparare a gestire assieme le sfide. È un fatto positivo che l'Italia abbia l'anno prossimo la presidenza nel G7, la Germania nel G20 e quindi collaboreremo molto stretto anche in questa occasione. Per quello che riguarda le sfide, se si guardano gli ultimi otto anni, si possono vedere sette anni. Vediamo che l'Europa deve dimostrare che è una forza valida nel mondo. Abbiamo dovuto difendere la nostra valuta, l'euro, abbiamo fatto buoni progressi e abbiamo raggiunto molti risultati. Adesso nell'emergenza migratoria si pone la questione se l'Europa riesca a tutelare i propri confini esterni. La zona di Schengen va dal polo nord, la Russia, l'Ucraina, fino alla Turchia, la Siria, la Giordania, il Libano, l'Israele, la Tunisia, la Libia, l'Ageria, il Marocco, quindi il Mediterraneo fino al polo nord come i confini esterni dell'Europa. O difendiamo queste frontiere esterne, le tuteliamo assieme o ricadremo nel nazionalismo, quindi perderemo la libera circolazione delle imprese, delle persone. Quindi non si tratta tanto di una sfida della Grecia, della Germania o dell'Italia, ma sono sfide che riguardano il futuro dell'Europa. Abbiamo parlato anche della sfida in questo senso, facendo dei progressi per quello che riguarda l'accordo con la Turchia, l'Europa, l'Unione Europea, la Germania e l'Italia sono disposti per quello che riguarda gli obblighi che abbiamo accolto e noi speriamo che ci sia una corrisponsione. Abbiamo parlato intensamente della rutta libica, la missione Sofia è uno sforzo comune europeo. L'Italia ha dato un grande contributo per quello che riguarda l'identificazione e la realizzazione degli hotspot, ma nel complesso è un problema europeo, questo non è un problema dell'Italia. Non possiamo lasciare da solo un paese in questo senso e questo è lo spirito in cui noi dobbiamo discutere di tutte le sfide e cosa che noi abbiamo fatto oggi. E quindi credo che noi nella lotta alle cause della migrazione, quindi attività in Africa e anche con la suddivisione degli online in Europa dobbiamo qui fare dei progressi, andare avanti e in questo modo potremo gestire la sfida in modo da dimostrare che l'Europa può risolvere i propri problemi. Abbiamo parlato ovviamente anche dei conflitti in generale, vorrei dire espressamente che stimo molto che l'Italia con il Migration Compact e con il suo approccio dà impulsi importanti nella discussione europea e anche se per quello che riguarda i finanziamenti ci sono delle opinioni diverse, però nello sforzo complessivo siamo dello stesso parere e anche per quello che riguarda il Consiglio di giugno possiamo proporre iniziative congiunte, per esempio per quello che riguarda il ruolo del Niger, come stabilizzare la Libia, come possiamo realizzare la guardia costiera per fare in modo che ci sia anche una ripresa economica, anche come aiutare altri paesi dell'Africa del Nord, per esempio la Tunisia, ma anche la cooperazione con l'Egitto è importante e con gli altri paesi. Abbiamo avuto quindi una discussione proficua e intensa e credo che questa discussione vada intensificata nello spirito dell'Europa. Stimo molto, apprezzo molto il fatto che le riforme in Italia che il Presidente del Consiglio ha già portato avanti e a cui sta lavorando sono un contributo a che l'Europa sia competitiva in modo che le cittadine e i cittadini dell'Europa abbiano un migliore futuro, perché l'alta disoccupazione è qualcosa che dobbiamo superare in modo che soprattutto i giovani possano capire che l'Europa per loro è un valore aggiunto e in questo spirito porteremo avanti anche le nostre discussioni future. Grazie per l'ospitalità. Signora Cancelliera, come valuta la proposta della Commissione per quello che riguarda la distribuzione equata dei contingenti di rifugiati in Europa e coloro che non partecipano vengono puniti con un importo di 250 mila euro all'anno per profugo? Come reagirete se l'Austria chiuderà effettivamente il Brennero? Inizio con la domanda supplementare, io farò tutto il possibile per fare in modo che risolviamo i problemi diversamente che con la chiusura dei confini. Sono stata molto critica per quello che riguarda la chiusura del confine macedono verso la Grecia. La Grecia in quattro settimane ha accolto 60 mila rifugiati dalla Turchia perché non avevamo ancora l'accordo UE-Turchia. Questo avrebbe significato per la Germania che nel giro di quattro settimane avremmo avuto 400 mila rifugiati, profughi e sarebbe stato anche per la Germania una grande sfida. Non possiamo abbandonarci a vicenda, non possiamo chiudere i confini che non sono confini esterni. Dobbiamo essere leali gli uni con gli altri e dove ci sono paesi ai confini esterni e danno pesi particolari li dobbiamo appoggiare nella lotta alle cause della fuga oppure lottando contro la migrazione irregolare o eventualmente ripartire anche gli oneri. La Commissione ha fatto una proposta che è un ulteriore sviluppo, un'evoluzione. Non parlerai tanto di sanzioni o di aspetti coatti, ma dobbiamo avere una sensazione europea. Dobbiamo comprendere che questi confini sono confini nostri, indipendentemente dov'è la propria posizione. Quindi la Commissione ha proposto diverse opzioni come partecipare alla ripartizione degli oneri e che dobbiamo parlarne un allargamento rispetto alle proposte precedenti dove si parlava soltanto di ripartizione e non possiamo avere un'Europa comune rigettando ogni forma della ripartizione degli oneri. Quindi è una proposta di cui discutere, bisogna discuterne e complessivamente abbiamo bisogno di una lealtà. Non possiamo, rispetto a un paese che protegge le nostre frontiere esterne come l'Italia o la Grecia, non lo possiamo abbandonare o Malta o Cipro o altri paesi. Elisabetta Graziani, agenzia di stampa La Press. Per il Presidente Renzi, il leader di estrema destra austriaco, Strache, ha definito lei e la Cancelliera Merkel scafisti di Stato. Come si può rispondere a questa provocazione? E in secondo luogo per la Cancelliera Merkel, si ritiene che occorra ancora una riflessione aggiuntiva sul trattato di libero scambio tra Europa e America, visto che un sondaggio ha detto che il 70% dei tedeschi è piuttosto scettico. Grazie. Non entro nelle dinamiche di politica austriaca, nella campagna elettorale austriaca e quindi non replico dal punto di vista politico. Dal punto di vista istituzionale, credo che chi ha visto le immagini dei bambini morti nelle stive delle navi del Mediterraneo, chi tiene il telefonino acceso la notte perché sa che deve magari autorizzare interventi in mare per salvare delle persone, delle donne, degli uomini, chi ha visto partorire sulle navi della Guardia Costiera italiana o della Marina Militare italiana, sa che sentirsi dare degli scafisti è una frase vergognosa che dovrebbe far riflettere le tante persone per bene che ci sono in Austria. Anche noi collaboriamo alla missione Sofia, chi ha parlato, come l'ho fatto io, con i soldati che hanno salvato bambini e persone che mi raccontano quanto sono felici, non hanno mai vissuto personalmente una tale situazione, allora posso dire che è veramente una missione molto importante e sarebbe ovviamente meglio se queste persone non fuggissero. La posta in gioco è che noi dobbiamo rispondere a livello pratico alla questione, non a livello teorico per quello che riguarda appunto i nostri valori, la legge fondamentale tedesca ma anche i nostri valori fondamentali europei ci dicono che dobbiamo rispettare la dignità dell'uomo che non è toccabile e non riguarda soltanto la dignità degli uomini in Italia in Germania ma è una visione globale della dignità dell'uomo e quindi abbiamo una responsabilità globale che dobbiamo rispettare a livello europeo e poi, e questo è importante anche per la visione del mondo rispetto a noi e la nostra capacità di risolvere i problemi e quindi è importante che noi dobbiamo affrontare passo per passo la responsabilità e questo è essenziale anche per la credibilità di tutto quello che fanno gli stati membri dell'Unione Europea e per quello che anche dicono e fanno. Poi per quello che riguarda il TTIP e l'accordo transatlantico di investimento e di partenariato io credo che ci siano delle situazioni che si ripresentano in cui i politici devono convincere e i sondaggi mi dicono che dobbiamo continuare a convincere però dobbiamo continuare a lavorare e sono profondamente convinta che soprattutto per quello che riguarda la Cina e i paesi asiatici e il fatto che c'è un accordo transpacifico che noi, gli europei e gli USA possiamo creare posti di lavoro, li possiamo garantire e a livello sociale ed ecologico possiamo creare degli standard che sono di valenza globale, altrimenti si creano degli standard che non sono codeterminati da noi e quindi vedo dei vantaggi molto nettamente e anche in Germania continuerà a convincere in questo senso, c'è ancora da fare, anche in Italia probabilmente la situazione è simile, anche qui bisogna adoperarsi per qualcosa che si ritiene giusto. Oh no, I agree, in this case I agree. Michael Feith, Münchner-Mercoa, signora cancelliera dieci giorni fa, il Presidente Weidman è stato qui a Roma e ha creato una certa concitazione perché ha rimproverato all'Italia di puntare che è ancora sull'indebitamento, si aderisce a questa critica e poi il programma di riforma che è molto ambizioso del suo collega che avrà un referendum ad ottobre, qual è la sua visione? Nella nostra struttura istituzionale è ancorata l'indipendenza della Bundesbank e poi c'è il livello politica e il Presidente del Consiglio ed io parliamo spesso di come applicare meglio il patto di stabilità e crescita, come possiamo meglio realizzarlo e io rispetto tantissimo, stimo molto quello che è stato messo in moto grazie al corso di riforme del governo e del Presidente del Consiglio, abbiamo un Jobs Act che è un percorso molto giusto, abbiamo grandi sforzi per quello che riguarda la creazione di una struttura statale più efficiente, il riforma del Senato e tanti altri progetti e io credo che sia la direzione in cui noi dobbiamo andare ma non solo in Italia, anche in Germania, noi abbiamo dei compiti da fare, dobbiamo sostenerci a vicenda, abbiamo bisogno di investimenti in Europa e nel futuro, a volte investimenti statali e soprattutto dobbiamo creare un clima che faccia in modo da tirare imprese private per quello che riguarda la gente al digitale, le infrastrutture, quello che facciamo in questo contesto ci unisce molto nella discussione, noi siamo molto vicini e poi dopo se ci sarà la crescita si sviluperà in maniera ragionevole anche la questione del debito. Il Presidente della Banca, della Bundesbank non ha creato concitazione in Italia, forse lo ha fatto su qualche media o tra qualche giornalista o ha detto ai lavori, ma la stagione in cui dichiarazioni che provengono dall'esterno creavano fibrillazione in Italia è finita. Io auguro di cuore buon lavoro al Presidente della Bundesbank per risolvere i suoi problemi, con Angela quando dobbiamo parlare parliamo tra di noi, spesso siamo d'accordo, qualche volta no, è normale, è la naturale discussione tra due grandi paesi dell'Unione Europea che hanno comune interesse perché quando va bene l'economia tedesca un pezzo di nord-est italiano cresce di più e quando l'Italia torna alla crescita l'export della Germania nei confronti dell'Italia è cresciuto di 7 miliardi lo scorso anno. Lo scorso anno il livello di crescita dell'export italiano verso la Germania è stato più o meno dell'1%. Il livello di crescita invece dell'export tedesco verso l'Italia è stato almeno quattro volte più grande. Perché? Perché dopo tanti anni in cui l'Italia aveva una crisi dei consumi, quando l'Italia torna a consumare immediatamente il primo partner è la Germania. Dunque non c'è un'Italia-Germania, quello c'è ai mondiali di calcio, c'è quando dobbiamo discutere a livello filosofico o di tante questioni, ma se l'economia italiana va meglio questo produce risultati anche nell'economia tedesca e se l'economia tedesca funziona c'è un pezzo d'Italia che per l'indotto è contento. Quanto al debito, e finisco su questo, così diamo dei tweet sulla situazione italiana. Due anni fa il mercato del lavoro in Italia era il meno flessibile d'Europa, insieme a quello francese. Oggi il nostro mercato è più flessibile di quello tedesco, grazie al Jobs Act. Il debito è cresciuto fino al 2014, il rapporto debito-PIL si è stabilizzato. Deve scendere. La discussione sulla flessibilità è che noi vogliamo farlo scendere gradualmente perché vogliamo inserire elementi incentivi nell'economia e altri, giustamente dal loro punto di vista, ci richiamano a scendere più velocemente. Ma la curva ha cambiato direzione e questo è un fatto molto importante. Dopo tre anni di segno meno l'economia italiana è tornata al più. La giustizia civile, ieri sono usciti i dati, è passata da 498 giorni per la sentenza di primo grado a 367. Quindi il primo grado della giustizia civile si fa in un anno. Ancora troppo per me, ma è un passo in avanti. E le tasse finalmente hanno preso la strada della discesa. Dunque l'Italia è tornata. Non ha voglia di mettere bandierine sui risultati ottenuti perché noi siamo dell'idea che ci sia ancora molto da fare. Noi siamo impegnati per i prossimi due anni a lavorare giorno dopo giorno. Ma siamo assolutamente certi che quello che c'è da fare lo sappiamo da soli, lo decidiamo con i nostri partner europei e non ce lo facciamo dire da nessun governatore di banca straniera. E quindi con il massimo rispetto per il vostro concittadino si sappia che egli è sempre il benvenuto in Italia dove lo accoglieremo con un grande sorriso e senza alcuna concitazione. Volevo chiedervi una domanda su come pensate di finanziare il Fondo per l'Immigration Compact. Nella proposta italiana, lei Presidente l'ha appena ricordato, indicava, proponeva negli Eurobond uno strumento finanziario utile. Perché insiste su questo strumento? E considerata la contrarietà della Germania, la cancelliera Merkel, quale potrebbe essere un'alternativa agli Eurobond? Per noi il fatto che ci sia condivisione con la Germania è già un passaggio importantissimo. Poi siamo pronti a discutere. I team, le squadre lavoreranno sulla soluzione. Dipende da quante grande le entità dell'investimento. Io personalmente credo che in prospettiva qualche soluzione innovativa vada trovata. Però se la soluzione di finanziamento è diversa, sono molto concreto. A me interessa portare a casa il risultato. E quindi non importa se è con l'Eurobond o senza Eurobond, l'importante è che il Migration Compact dia le risorse per aiutare l'Africa, cosa che non è stata fatta. Mi perdoni la battuta, credo che questa sia l'ultima domanda, giusto? Perfetto, così è l'ultima domanda e lascio chiudere ad Angela. Angela è una grande... non è l'ultima, sì. È una grande tifosa del Bayern Monaco e il prossimo anno il Bayern Monaco avrà un allenatore italiano che si chiama Carlo Ancelotti. Bene, non c'è dimostrazione migliore del fatto che i destini italiani e tedeschi stanno insieme e devono provare a vincere insieme, al di là di falsi stereotipi e di luoghi comuni che troppo spesso vengono utilizzati, talvolta dai politici, altre volte dagli operatori mediatici e talvolta anche dalla società. Invece vinciamo o perdiamo insieme? Questa è la vera realtà del rapporto tra l'Italia e Germania. Anche se la Champions la vincerà la Fiorentina prima o poi. Prima o poi. Non vogliamo parlare di Torino. Ci possiamo concentrare più sugli spagnoli. Sì, tornando alla sua domanda. Spero ovviamente che il coach italiano avrà successo col Bayern München in ogni direzione. Però appunto la sua domanda. Noi abbiamo visto di aver trovato una soluzione per quello che riguarda la cooperazione con la Turchia su divisione degli oneri. Quindi mettendo a disposizione un certo importo alla Turchia di 3 miliardi abbiamo stabilito anche utilizzato una flessibilità nel patto di stabilità. Abbiamo parlato oggi del fatto che ci sarà necessario di un miliardo per combattere le cause di fuga ai confini, per esempio nel Niger, per un certo periodo di tempo. Ovviamente tutto in un'unica soluzione ma diluiti nel tempo. Se noi ci concentriamo sul bilancio europeo, riusciamo a farcela. Ovviamente nel lungo periodo dobbiamo rivedere la nostra politica per lo sviluppo, per vedere come meglio collaborare, come coordinarci meglio anche tra le politiche europee e quelle nazionali. È importante avere un obiettivo comune, mantenere l'Europa con la libera circolazione, tutelando le frontiere esterne e qui devo dire che collaboriamo strettamente per quello che riguarda l'impegno della Germania in Libia, per quello che riguarda l'impegno italiano nella Turchia. Ognuno ha pensato alla propria rotta. Noi invece abbiamo cercato un approccio comune europeo e questo è quello che conta, a mio avviso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.